scuola divertente benvenuti alla scuola divertente cos'è questo questo si chiama salvagente il salvagente e cos'è quest'altro questo si chiama scivolo lo scivolo e cos'è quest'altro questo è l'acqua park l'acqua park e cos'è quest'altro questo si chiama bagnino il bagnino forse ho capito oggi giocheremo all'acqua park su vieni con me eccomi all'acqua park com'è bello qui ciao andrea ciao roky stai molto attento sulla moto può essere pericoloso non ti preoccupare andrea roky tutto bene come stai si andrea con me tutto bene ma la mia moto è caduta in acqua per bacco non so nuotare aiuto aiuto ti salvo io ce l'ho fatta urrà urrà grazie mille andrea grazie roky buona giornata e io nel frattempo vado a vedere come va con gli altri giocattoli zooma zooma ho trovato una foca ho trovato una foca perfetto sono rimasti ancora due giocattoli in acqua andiamo a trovarli ciao ragazzi cosa succede cosa state facendo di bello andrea ho perso i miei giocattoli in acqua e chase sta aiutando a recuperarli oh ne ho trovato uno ho trovato una paperella ed è di colore giallo urrà 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 grazie mille andrea urrà ah per bacco non riesco a trovare nulla chase ho avuto un'idea utilizzi il tuo radar ah ah ma certo come ho fatto a non pensarci prima ah riesco a vederlo oh un ottimo lavoro ho trovato una tartaruga verde ragazzi grazie mille a tutti per l'aiuto grazie davvero di niente chase io vado a controllare i tappeti elastici tu nel frattempo fatti un bello scivolo oh com'è bello qui ah ah oi 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 aiuto 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 ai 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 preso oh andrea grazie sei arrivato giusto in tempo roi sui tappetini elastici bisogna stare molto attenti e dimmi un po' perché non fai un bel bagnetto come tutti gli altri oh andrea io non riesco a nuotare ho tanta paura roi vieni con me ho un salvagente apposta per te grazie mille andrea ciao roi ciao vado allo scivolo da chase chase tutto a posto con te si andrea tutto sotto controllo non preoccuparti ma cosa succede jet è caduto in piscina dobbiamo salvarlo subito vado grazie mille andrea mi hai salvato a presto serve controllarti per bene chase porta qui il kit di pronto soccorso su chase su andrea purtroppo non abbiamo il kit di pronto soccorso vado a comprarlo al negozio torno subito va bene chase e tu nel frattempo guardati un bel cartone animato guardate un elicottero guardate un elicottero guardate un elicottero guardate un'epoca ciao guardate un'epoca ho scelto guardati anche per te ieri ma ma voi siete in quattro macchinine dobbiamo trovare altre due canne da pesca bene fantastico la macchinina gialla ha trovato una palla verde ma la palla verde non è una canna da pesca macchinina gialla macchinina blu dove stai andando cucù cucù brava macchinina blu hai trovato una canna da pesca adesso abbiamo tre canne da pesca oh oh ma quello è un pennello macchinina verde eccola hai trovato l'ultima canna da pesca una due tre e quattro quattro canne da pesca possiamo cominciare lanciate le esche e vediamo cosa riuscite a prendere ognuna provi a prendere un pezzo lasciato cadere dall'elicottero wow guardate la macchinina blu ha preso un pezzo la macchinina blu aiuta la rossa a tirare su una parte attenzione la macchinina verde ha preso qualcosa anche la macchinina gialla ha pescato un pezzo quattro pezzi assembliamo uno due questo è lo scafo di una barca e tre questa è una vela e quattro questa è un ancora brave macchinine avete costruito una barca vela così potete navigare nella piscina delle palline la macchinina gialla va per prima e fa il giro della basca buon viaggio macchinine è stato divertente salvagenti comprate i nostri salvagenti salvagenti ciao vorrei quel salvagente che assomiglia a un ananas prendi è tuo prendi grazie mille arrivederci ciao sai dirmi dov'è la farmacia ho bisogno di una farmacia al più presto purtroppo qui non ci sono farmacie ma puoi prendere in prestito la nostra cassetta del pronto soccorso grazie mille per l'aiuto grazie ancora di nulla figurati se ancora hai bisogno chiedi pure eccomi qua ho preso tutto quello che serve grazie mille chase questo si chiama stetoscopio grazie allo stetoscopio possiamo ascoltare i nostri polmoni c'è qualche rumore che non mi convince per niente Andrea forse ha bevuto troppa acqua c'è chissà che hai proprio ragione dobbiamo asciugarlo per bene ok adesso dobbiamo oleare tutti i suoi ingranaggi c'è chiusci c'è chiusci c'è chiusci c'è chiusci c'è chiusci jett prova a trasformarti oh perfetto riesci a trasformarsi finalmente tutto a posto grazie mille per l'aiuto andrea grazie mille di nulla ciao e grazie a te che hai guardato il nostro episodio ciao